Le previsioni meteo hanno giocato l'ennesimo scherzetto al turismo in riviera. Quello che doveva essere un weekend pasquale con l'ombrello e il cappotto, meteorologicamente parlando, non c'è stato e fioccano polemiche tra gli operatori del settore e non solo. Infuriati gli albergatori che pensano ad azioni illegali, numerose infatti, sono state le disdette agli hotel che avevano deciso, non senza avventurarsi, di aprire per la Pasqua. Essere precisi è impossibile, spiega l'assessore al turismo provinciale Fabio Galli, ma più moderati no, ad esempio limitandosi a prevedere variabilità e non una specie di tsunami. È già un periodo difficile per il nostro turismo e per le difficoltà relative alla crisi. In vista dei prossimi weekend dei ponti del 25 aprile e del 2 maggio, segnala Galli, occorre muoversi ufficialmente per pretendere serietà ed equilibrio. Nonostante gli eventi sportivi, il Paganello a Rimini, il Beachline Festival a Riccione, si registra una risposta del 50% nelle strutture ricettive aperte. Ora il lavoro della regione è giocare d'anticipo sui prossimi ponti di fine mese, afferma l'assessore regionale al turismo Maurizio Melucci, e cercheremo di capire qual è il livello delle previsioni per intervenire. Gli esperti lo sanno e ne devono tener conto.